Ciaoci ormai, bentornati sul canale! Oggi vediamo insieme sette espressioni con il verbo saltare, espressioni che potete utilizzare tutti i giorni in qualsiasi conversazione. Iniziamo con la prima espressione, saltare dalla felicità oppure saltare dalla gioia. Saltare dalla felicità oppure saltare dalla gioia significa fare dei salti oppure dei movimenti molto vivaci per esprimere, per manifestare la nostra felicità, la nostra gioia. In senso figurato significa essere molto contenti. Vediamo un esempio. Maria sta saltando dalla felicità da un'ora, ha finito tutti gli esami e ora può finalmente andare in vacanza. La seconda espressione è saltare il pranzo oppure saltare la colazione oppure saltare la cena. Questa espressione significa non fare il pranzo oppure non fare la colazione o la cena perché non abbiamo avuto il tempo di farlo a causa di un imprevisto oppure di un impegno. Vediamo un esempio. Oggi sono stata impegnata tutto il giorno, ho addirittura saltato il pranzo, ora sto morendo di fame. Oppure un'altra espressione simile è saltare la partita. In questo caso significa non fare la partita, non partecipare alla partita. Vediamo un esempio. Matteo si è fatto male al ginocchio e ha dovuto saltare la partita, ovvero non ha potuto giocare la partita, non ha potuto partecipare alla partita. La terza espressione di oggi è saltare la fila oppure saltare la coda. Questa espressione significa semplicemente non fare la fila, non fare la coda, ovvero passare davanti a tutti quanti senza rispettare la fila. Eravamo in coda per comprare il biglietto di ingresso quando due turisti hanno saltato la fila e sono passati davanti a tutti. La quarta espressione di oggi è saltare in aria. Questa espressione significa esplodere, essere distrutti da un'esplosione. Hanno fatto saltare in aria il palazzo all'improvviso. Oppure in senso figurato significa fallire. Il piano è saltato in aria. Attenzione però con questa frase. Infatti questa frase ha un doppio significato. Il piano è saltato in aria può significare che il piano dove abitiamo è saltato in aria, è esploso. Oppure può voler dire che il piano che avevamo in mente, che avevamo progettato, non è andato a buon fine, è fallito. Quindi fate attenzione al contesto. Questa frase il piano è saltato in aria può voler dire due cose. Saltare in aria, quindi esplodere, boom, oppure vuol dire fallire. Il piano che avevamo pensato, progettato è fallito, è andato male. La quinta espressione di oggi è saltar fuori. Questa espressione significa mostrarsi, rendersi visibile. Questa espressione viene utilizzata con quegli oggetti che non troviamo più, che stiamo cercando ma non troviamo o che abbiamo perso. Oppure viene utilizzato quando ci riferiamo a delle persone che non sentiamo da molto tempo. Vediamo un esempio. Ecco dov'era il mio libro di italiano. Finalmente è saltato fuori. Ovvero finalmente l'ho trovato, è venuto fuori, si è mostrato, si è reso visibile, l'ho trovato. Il mio libro è è saltato fuori. La sesta espressione è saltare addosso. Questa espressione può avere un significato sia figurato che letterale. In senso figurato significa aggredire verbalmente qualcuno, accusare. In senso letterale invece significa proprio saltare fisicamente addosso a qualcuno, per aggredirlo oppure anche solo per felicità. Vediamo gli esempi. Matteo mi è saltato addosso senza motivo. Non sono stata io a perdere le sue chiavi di casa. Ho rivisto Maria dopo due anni. Era così felice che mi è saltata addosso dalla felicità. La settima e ultima espressione di oggi è saltare in testa. Questa espressione significa venire in mente all'improvviso. Vediamo due esempi. Matteo ha cancellato all'improvviso il suo viaggio in Asia. Che cosa gli è saltato in testa? Wow Maria mi hai davvero sorpresa! Che cosa ti è saltato in testa? Non dovevi regalarmi una macchina nuova per il mio compleanno? E queste erano sette espressioni con il verbo saltare. Spero che il video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato utile. Mi raccomando scrivetemi qua sotto nei commenti se conoscete altre espressioni con il verbo saltare. E ovviamente se volete, se avete qualsiasi domanda, scrivetela sempre qua sotto nei commenti e sarò più che felice di rispondervi. Noi come sempre ci vediamo la settimana prossima con un altro video qui su Italian sì, ciao ciurma! Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Qui ti lascio un altro video utile per esercitare il tuo listening che spero possa esserti utile. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici che stanno studiando l'italiano. Ciao e a presto!